Un flusso atlantico perturbato interessa la penisola con diffuse precipitazioni. Sabato 10 dicembre, molto nuvoloso, con precipitazioni diffuse più insistenti sulle province centro-meridionali, in serata nevicata in Appennino oltre i 1300-1400 metri di quota. Venti settentrionali fino a moderati su costa e arcipelago, mari mossi con moto ondoso in aumento in serata, temperature in diminuzione dal pomeriggio, sul territorio provinciale tempo prevalentemente coperto con piogge schiarite. A Lucca e sulla Piana minima 8, massima 13 gradi, a Castelnuovo e zone montane minima 7, massima 12 gradi, a Viareggio e sul litorale minima 11, massima 14 gradi. Domenica 11 dicembre, molto nuvoloso, con piogge e rovesci sparsi, più frequenti nella prima parte della giornata sulle province centro-settentrionali.